Ciao bambina, bambina adorata, ma tu sei molto simile a me, non ti rendi conto? Devo dire che noi siamo molto soddisfatti di tutto l'iter che stai facendo dentro la casa, veramente dimostri una grande maturità che d'altronde è frutto di tutta l'esperienza che tu hai accumulato in tanti anni di carriera professionale, tu sai che io stesso ti iscrissi al corso in modella e da quando ti iscrissi al corso tu hai fatto una carriera bellissima e ti voglio molto 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 bene, ti abbraccerò d'oggi in avanti con convinzione.